Buonasera ragazzi, tornate sul mio canale, io sono Linkim Grazie a tutti Buon appetito! la vedo male ragazzi la vedo male ragazzi mi son fatto le mie kill ragazzi cazzo di fumo non cede niente la vedo male ragazzi la vedo male la vedo male la vedo male la vedo male cazzo le ho tenuti impegnate il più lungo possibile però ovviamente la vedo male 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 maledetto giacinto nicarico a a a a a a a a a quando posizioni cacca di questo mitragliere una posizione di merda ho scoperto che è ancora il senso ragazzi però stiamo perdendo la base che va bene per un posto milano non c'è nessuno a difendere però col fatto che ne ho eliminati 3 penso che almeno un retroguardo e lavoro distrutto così doveva aver tagliato un pochettino il rinforzo se riesco a piazzarmi sopra adesso posso coprire un po' con il rinforzatore a a a No, 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 no. E' un paio li ho portati con me, l'importante è quello La metriatrice non la posso più utilizzare, ormai è fottuta Cazzo, io sono spawnato in mezzo a un campo Madonna mio, cazzo materragovi Cazzo materragovi Figlio di purtana, ho beccato la torta Mi serverebbe lo spawn da uno dei miei compagni, perché sarebbe più facile arrivarci così. Poi non capisco perché ogni volta gli ufficiali non sanno mai la carica. Troppe gatti. Siete facendo papà e avancate? Are you kidding me? Unbelievable, sono scato con un ampio lullo. Siete facendo papà e avancate? Siete facendo papà e avancate? Perchéum. Mi ringrazio. Ma manca di rinforzi. Però va per una bella partita. DUF Il competition SOOm esatto ma il giorno decisioni corpo a corpo bombolino bollore scuola condimenti volo uno dei miei piacere miei nemici i i anche i i i Grazie a tutti.